Cinque anni dopo torna il Gran Premio della Cina, dopo anni di stop causa politica del governo cinese Covid-free, non cambia ovviamente la sostanza. La Red Bull fa il bello e il cattivo tempo e nonostante tantissime variabili la scuderia austriaca fa doppietta sia per quanto riguarda la qualificazione sia per quanto riguarda la gara vera dove fa quantomeno 1-3. Nel mezzo tante variabili hanno evidentemente però cambiato le carte in tavola con un grande Hamilton in gara sprint e un buonissimo Norris in gara vera. La grande variabile per quanto riguarda il weekend cinese erano le condizioni meteo perché abbiamo visto una qualificazione del venerdì per quanto riguarda la gara sprint soggetta a un diluvio universale quantomeno nella Q3 e di conseguenza con un sacco di grippi meno nell'asfalto i valori sono cambiati. Questa è la griglia di partenza della gara sprint del sabato di Cina dove appunto abbiamo visto Norris primo ed Hamilton secondo, non senza polemiche perché abbiamo visto causa il grandissimo grip dell'asfalto ovviamente in senso ironico di Shanghai, macchine finire letteralmente per sprelle con una marea di giri cancellati e qui entra in gioco la grande protagonista diciamo della gara della Cina per tutto il weekend e non è ovviamente una scuderia ma è la direzione corse. La direzione corse oggi ha fatto una gestione da bandiera rossa per usare sempre un termine automobilistico perché tra i giri cancellati nella qualificazione del venerdì e gestioni approssimative in gara evidentemente oggi la direzione corse torna a essere evidentemente quella tanto soggetta alle critiche mie in primis ma anche di altri tifosi e soprattutto dagli addetti ai lavori cosa che io non sono. Però da tifoso ed appassionato di Formula 1 vedere dei tempi ovviamente molto alti cancellati per aver oltrepassato i limiti della pista quando l'asfalto è fatto in maniera nuova con pochissimo grip con macchine che non stanno in pista sotto il blu universale con le intermedie insomma fa capire il poco metodo di giudizio coerente di questa direzione gara. Cioè fa più scandalo Norris che appunto fa la pole position 1.57 e gli viene tolto per avere certi limiti della pista. Hamilton che nel frattempo era in pole position con 1.59 nel giro di rientra di fatto rallenta senza spingere. Poi la direzione gara si sveglia ridà il giro a Norris e la grida di partenza quindi è Norris prima Hamilton secondo quando in realtà sarebbe stato più corretto secondo me cancellare i giri anche a Norris senza restituirli e lasciare un Hamilton in prima posizione. E lo stesso discorso vale per le cancellazioni fatte per Verstappen per Leclerc e tutti gli altri piloti coinvolti nel Q3. Già qui fa capire come la direzione gara è stata protagonista in negativo. Al netto che poi la gara sprint è stata divertente più della gara vera perché appunto una gara sprint l'abbiamo vista con delle condizioni non propriamente di asciutto quindi con un asfalto con poco grip con soprattutto poi un grande anonimato e delle incognite da parte dei piloti che non avevano vagamente idea di cosa trovarsi e di conseguenza abbiamo avuto dei valori che almeno inizialmente sono stati evidentemente mischiati. In realtà poi Verstappen in gara sprint rimonterà e andrà a vincere e farà di fatto una doppietta perché vincerà anche la gara lunga. Gara lunga che poi invece è stata conclusa stamattina appunto in Cina e non ha regalato grosse emozioni rispetto al solito. Qualcosa ci ha visto dal punto di vista della strategia qualcuno ci ha provato a rendere viva la gara con dei guasti tecnici e con degli errori veramente da principiante che neanche io quando corro in go kart. Il primo grande episodio della domenica mattina è stata questa safety car causata da Valtteri Bottas, problema del motore per il piatta finlandese del team Stakesauber però va detto che anche qui la direzione corse ha fatto veramente quello che voleva ma in senso negativo. Ci hanno messo un'eternità a chiamare non solo una doppia bandiera gialla, non solo una virtual safety car ma anche una safety car quando nel frattempo piloti che potevano approfittarne nella fattispecie Norris e Leclerc hanno perso due giri di fatto a ritmo ridotto perché ovviamente anche i commissari di pista non riuscivano fisicamente a spostare la macchina di Bottas che era in una posizione clamorosamente da safety car. Questa è una gestione veramente approssimativa da parte della direzione corse in questo francese della Cina e questo è già un errore da matita rossa, un po' come appunto l'aver tolto dei tempi ma poi averlo ridato a Norris nella qualificazione del venerdì della gara sprint. Insomma tanta carne al fuoco per la direzione corse che anche oggi non si dimostra propriamente sul pezzo, un altro episodio che invece prova a ravvivare un po' la gara con altre bandiere gialle è un tamponamento sotto safety car e uno dice ma com'è possibile? È possibile se il pilota coinvolto è Lance Stroll, Lance Stroll è un pilota che è soggetto a tanti errori, certo non pensavo che dopo anni di esperienze in Formula 1 Lance Stroll fosse ancora soggetto a errori così pacchiani e così grossolani da principiante. Ecco Lance Stroll già non gode della mia pena simpatia, questo episodio diciamo la fossa del tutto, la simpatia poca che avevo su Lance Stroll, pilota veramente falloso e approssimativo che appunto corre nella scuderia di suo papà perché ricordiamo che l'Aston Martin è di proprietà di Lawrence Stroll, papà di Lance, però Lance comunque un bene che vada è un pilota da midfield che non andrà mai a fare il salto di qualità e se possibile fa diciamo dei regressi. Qui in safety car, Ricciardo Ferra per impostare il tornantino a questa ridotta, la Stroll lo centra in pieno di fatto buttando fuori Ricciardo, Stroll verrà infatti penalizzato di 10 secondi e finirà praticamente penultimo questa gara. Un Aston Martin che invece ha di che godere per quanto riguarda Fernando Alonso ma solo per la prima parte della gara. Per il resto è stata la solita gara noiosa di Formula 1 con una scuderia su tutte dominante quantomeno al venerdì e parte ovviamente della domenica, il sabato invece col bagnato qualcosa ovviamente è cambiato ma a chi vince è sempre lo stesso pilota ovvero Max Verstappen che vince la quarta di cinque gare. Ancora una volta suona Helt Wilhelmus e ci ritroviamo anche una volta ad ogni racing podcast della Formula 1 quantomeno a dire sempre le stesse cose ovvero che Verstappen in qualunque condizione a parte qualche pista dove la Red Bull fa veramente fatica. Vedi per esempio l'Australia, vedi per esempio Singapore lo scorso anno evidentemente un pilota che è inarrivabile per tutti gli altri. Il Red Bull peraltro va detto che in questa pista di Cina aveva anche portato degli aggiornamenti importanti e infatti si sono visti perché il distacco anche rispetto alla concorrenza che non ha sviluppato al momento il primo pacchetto di aggiornamenti è veramente veramente ampia. Verstappen di fatto non l'abbiamo mai visto inquadrato se non per la ripartenza in safety car e all'ultimo giro una grandissima qualificazione al sabato, una grande gara domenica insomma è la stessa questione da praticamente due anni a questa parte con qualche rara eccezione. In questo caso è stato l'Australia 2024, Singapore 2023 è un'altra eccezione ma la Red Bull ancora una volta è una formazione che soprattutto con Verstappen fa il bello e il cattivo tempo. Verstappen appunto vince la quarta di cinque gare, scavalca quota 100 per quanto riguarda la classifica dei punti del mondiale piloti, Sergio Perez comunque salva un buon podio ed è terzo ed è il secondo per una Red Bull che ne è nettamente la prima forza in campo e lo sarà da qua fino alla termina del campionato a conferma del fatto che Melbourne è stata francamente una clamorosa eccezione per quanto piacevole, uno dei veri MVP in realtà della gara di Cina è Lando Norris che in parte sfruttando una strategia diversa della sosta, in parte sfruttando anche una safety car appunto causata sia appunto dall'incente di botta sia da quell'errore grossolano di Lance Stroll salva una clamorosa seconda posizione e porta a casa il secondo podio della stagione per l'uomo di punta del team McLaren che si issa in quinta posizione assoluta in campionato. In questa gara di Cina la McLaren va detta è stata la seconda forza in campo, la Ferrari in realtà ha fatto un passo indietro rispetto alle prime quattro gare del campionato però appunto Norris sfruttando un po' queste circostanze sfruttuite e una strategia leggermente differente ha un po' diciamo riscattato quella strategia sbagliata effettuata in quel di Suzuka. È un buon podio per Lando Norris che comunque può togliersi delle buone soddisfazioni qualora poi la McLaren portasse degli aggiornamenti ma che dovrebbero ancora arrivare. Chi invece deve portare è la Ferrari che comunque finisce dietro la Red Bull in particolare ha dietro anche Sergio Perez che era probabilmente attaccabile in alcuni frangenti poi Perez comunque ricordiamoci che guida una Red Bull macchina più veloce più forte in pista e di conseguenza anche un ottimo Leclerc e un buon Sainz evidentemente hanno avuto la peggio rispetto al piatta messicano secondo assoluto in questa classifica del campionato ma è giusto che sia così la Red Bull di fatto parte per fare tutte le gare prima e seconda in questo campionato mondiale di Formula 1 chi finisce invece ai fili del podio è Charles Leclerc che comunque anche oggi in Cina riesce comunque a essere davanti a Carlos Sainz in realtà è una delle poche gare dove appunto il pilota monegasco è stato dietro o meglio davanti al pilota spagnolo il pilota spagnolo ricordiamo che è senza sedile per l'anno prossimo ma sta correndo comunque con una garra con una voglia veramente invidiabile che è il miglior Carlos Sainz della carriera Leclerc anche qui sfruttando in parte la safety car e una strategia comunque diversa rispetto agli altri ha conservato una buona quarta posizione ed è terzo da solo in un mondiale che vede la Ferrari seconda forza ma non evidentemente sulla carta qui in Cina e qui in Cina appunto se non ci fosse stata la safety car la Ferrari sarebbe stata praticamente in zona settima ottava posizione a lottarsela con l'Aston Martin e con di fatto una delle due Mercedes e quella di Russell però Leclerc comunque ancora una volta ha fatto un'ottima gara e comunque quarta posizione per il pilota monegasco quinto è Carlos Sainz che comunque conferma di essere nella miglior stagione della carriera appunto questo è il peggior risultato della stagione tolta la gara di Arabia Saudita che di fatto non ha corso però appunto vedere un Sainz epurato dalla Ferrari ancora prima di cominciare di fatto stare sempre davanti a Leclerc tranne oggi in Cina fa rendere conto e dovrebbe far riflettere secondo me la Ferrari di che scelte sono state fatte per l'ottica futura comunque Carlos Sainz se continua così sicuramente un contratto lo troverà e chissà magari come ottima seconda guida in un top team al netto che la voce è poi caricata da anni è una voce per Audi nel 2026 ma verosimilmente Sainz potrebbe fare una ottima seconda guida in un grand bel top team andando avanti con la classifica troviamo in sesta posizione George Russell per una Mercedes che in realtà ha fatto decisamente fatica anche Russell ha approfittato un po' della safety car causata da prima Bottas poi Ricciardo Elastrol comunque la Mercedes è nettamente quarta forza in campo in tutte le condizioni a parte appunto il bagnato dove Russell ha fatto leggermente più fatica mentre Hamilton invece ha fatto una grandissima prestazione al sabato in settima posizione abbiamo invece Fernando Alonso che secondo me è una delle delusioni del giorno per quanto riguarda la gara della Cina perché è partito benissimo il direttore in seconda posizione con le strategie corrette poteva giocarsi secondo me una top 5 con costanza l'errore di Alonso qual è stato? Mettere le gomme soft in safety car e di conseguenza fermarsi una seconda volta certo ha fatto il giro veloce Fernando Alonso però comunque poteva secondo me giocarsi qualcosa di più Alonso ha veramente deluso per quanto riguarda questa aspettiva dell'Aston Martin che ricordo ancora una volta corre con un pilota solo ottavo è Oscar Piastri che di fatto attesta il ruolo di seconda guida in casa McLaren e comunque conferma di essere di fatto mai meglio di quarta e mai meglio di ottavo quindi un grandissimo pilota costante in questo momento l'australiano no no è Lewis Hamilton che fa una gara di clamorosa rimonta è passato Hamilton dai fast e dalla gara sprint dove per il sabato secondo me il pilota del giorno ha una gara di domenica una gara lunga dove una qualificazione orrenda lo ha relegato in diciottesima posizione e ha dovuto letteralmente rimontare complice anche qui le strategie e le safety car salvano una posizione che appunto fa tornare un po' Mercedes dove dovrebbe essere Mercedes in questo momento è una vettura da top 10 con costanza ma non più alta secondo me della sesta settima posizione quinta se proprio butta benissimo ma Hamilton appunto ha dovuto fare una gara veramente di sofferenza e deve ringraziare gli episodi citati in precedenza chiude la top 10 anche una volta Nico Hülkenberg che con una Haas che sta facendo una migliore stagione evidentemente da qualche anno a questa parte riesce a comunque smentirmi perché Hülkenberg era partito con non le mie particolari simpatie però la Haas è cresciuta e Hülkenberg ha avuto il mezzo di portare la Haas a punti quando ha avuto l'occasione tre gare a punti su quattro decima posizione anche una volta Hülkenberg ha 36 anni sta avendo comunque una buonissima stagione lui comunque che detiene un curioso record quello del maggior numero di gare senza né podi né vittorie tutti gli altri piloti sono after the music e ci prepariamo dunque al rientro in Europa quasi perché prima della gara di Imola che sarà a fine maggio ci sarà il Grand Rainbow di Miami dove appunto la Ferrari è predictata diciamo di sviluppare una vettura che in Cina era leggermente indietro stesso discorso per McLaren l'unica vettura che ha sviluppato è la Red Bull infatti si è vista come diciamo la differenza tra il top team e tutti gli altri era leggermente più ampia rispetto alle altre gare altre gare erano un pochino più combattute o comunque il distacco era accettabile qui invece il distacco è tratto di essere comunque importante perché è vero che Verstappen ha vinto ha vintolo con 13 secondi di vantaggio ma appunto lo ha fatto perché abbiamo avuto due safety car e di fatto non è tra le zone per sei giri altrimenti il vantaggio era nettamente più forte tutte le altre squadre comunque dovranno provare a rincorrere la Red Bull per sperare non di vincere ovviamente il Mondiale il Mondiale è praticamente già finito alla prima gara quest'anno però comunque per avere qualche soddisfazione in più qualche podio o approfittare delle debacle che ci potrebbero essere in questa stagione è importante aggiornare la vettura in ottica appunto di uno sviluppo del 2024 sviluppo che appunto dovrebbe arrivare per Ferrari quantomeno a Miami e vedremo appunto cosa ci regalerà la pista creata all'intorno del stadio dei Miami Dolphins dell'NFL l'anno scorso Verstappen da 14esimo in griglia arrivò a vincere la gara quest'anno si preannuncia ancora un dominio da parte di Red Bull vedremo appunto invece se le altre macchine avranno dei miglioramenti da presentare ma appunto è evidente che lo sarà perché una gara così di sofferenza da parte di Ferrari e Mercedes in particolare anche McLaren che comunque ha dovuto inventare una toglia diversa per arrivare a podio evidentemente è un chiaro segnale in tal senso questo è il racing podcast per quanto riguarda la Formula 1 del ritorno del campione medicina che appunto ricordo non si correva da 5 anni l'ultima edizione fu corso nel 2019 non sarà l'unico racing podcast perché in serata arriverà il podcast della giornata di Superbike del weekend medio di Superbike che ha corso in contemporanea la Formula 1 ad Assen perché anche lì qualche storia c'è da raccontare e abbiamo sicuramente un campionato molto più bello e molto più interessante della Formula 1 da raccontare il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti